Il comune di Roseto degli Abruzzi ha il lavoro per la creazione di un polo tecnologico per la gestione di rifiuti, volto al miglioramento della raccolta differenziata sull'intero territorio comunale, grazie al bando del Ministero della Transizione Ecologica, per il finanziamento degli interventi pari al 100%. Il sito individuato è quello dell'autoporto, come la delibera di giunta numero 28 dell'11 febbraio 2022, così da poter utilizzare un'area comunale facilmente accessibile, visto che ubicata nei pressi dell'ingresso della 14. Abbiamo ovviamente approvato in giunta per intercettare dei fondi importanti del PNRR per realizzare un centro di raccolta e del riuso nella zona dell'autoporto, che è sempre stato quello che noi abbiamo sostenuto in questi cinque anni di battaglia, visto che la precedente amministrazione ha scelto di localizzare il centro di raccolta e del riuso nella cittadella dello sport. Ovviamente la nostra intenzione, sempre nel rispetto della legge, è quella di delocalizzare il centro, che è oggi in fase di realizzazione, per questo abbiamo avviato un dialogo con Regione Abruzzo, e sapremo presto l'esito con l'assessore Campitelli di quello che sarà il centro di raccolta e del riuso nella nostra città. Il centro di raccolta nella zona dell'autoporto potrà servire tutta la città nel suo intero e non andrà, purtroppo, come avviene ora, se il centro di raccolta dovrà essere concluso nella zona in cui è stato avviato, disagi alla viabilità in una zona che, ripeto, ha un'altra destinazione, quella sportiva e commerciale. Ci sono diverse attività commerciali che sono nate in questi anni e carichi pesanti di camion e mezzi pesanti in una viabilità destinata ad altro uso crea sicuramente disagio. Secondo lei le tempistiche? Per le tempistiche dipende, essendo un finanziamento regionale, quello in parte, quello che ha permesso la costruzione del centro di raccolta, bisogna vedere di concerto con Regione Abruzzo il da farsi.